Da oggi si cambia. Entrano in vigore le nuove regole per la ZTL nel centro storico di Potenza. Queste resteranno in vigore fino al prossimo 15 luglio. Le modifiche alle orarie e alle zone sono state stabilite dalla giunta comunale. Sono frutto di una lunga fase di sperimentazione che ha prodotto polemiche e proteste, soprattutto da parte dei commercianti. Sono state modificate le fasce orarie di libero transito. È stata istituita un'unica fascia che comprenda pomeriggio e sera. Da lunedì al venerdì sarà possibile transitare dalle 13 a luna di notte e la domenica dalle 6 del mattino a luna di notte. Novità anche per i residenti. Nell'apportare modifiche si è tenuto conto dell'esigenza di definire meglio le aree di parcheggio disponibili per coloro che risiedono nel centro storico. I residenti dell'area di Via Addone, Vescovado, San Luca e Scafarelli avranno libero accesso e possibilità di sosta nell'area della ZTL. Da Via Vescovado a Via 4 Novembre dopo aver fatto domanda di permesso agli uffici preposti. I cittadini residenti negli edifici che ricadono nella ZTL e si affacciano su Via del Popolo potranno parcheggiare lungo tutta Via del Popolo. In ultimo i residenti nell'area di Via Orazio Flacco e Via Portasalza, esterni alla ZTL, potranno parcheggiare oltre che in Via del Popolo anche Via Gabet, Via Vigiane e Via della Pinita. Altra novità riguarda la tariffa oraria nelle aree di parcheggio a pagamento, interne a margine della ZTL, che viene portata da 2 a 1 euro ad ora. Restano confermate le aree pedonali di Piazza Matteotti, Largo Santa Lucia, Largo Duomo e Via Petruccelli e l'accesso libero in Via del Popolo.